Lui è Luigi, vive nel Bronx, non quello di New York, quello di Gela in Sicilia, e combatte le povertà a mani nude. Non è un guerriero della notte, lui è Luigi, anzi Don Luigi, uno dei tanti sacerdoti che non si arrendono, che vogliono andare avanti, insieme a te.